Io ho sempre detto che il mio idolo fin da piccolo era Anesta e ho preso quel numero lì per lui, il 13, ma dopo qualche anno ho imparato a stimare Chiellini, infatti ho anche un poster in camera mia e quindi giocare insieme a lui quest'anno è sicuramente per me motivo d'orgoglio e già nei primi allenamenti mi sta aiutando parecchio a cercare di parlare un po' di più e cercare di aiutare anche i miei compagni perché noi siamo quelli che vediamo l'azione meglio da dietro quindi è importante molto parlare e aiutare anche gli altri compagni. So che sono in una grande squadra e dovrò dimostrare ogni giorno di meritarmela e giocare poi insieme a un campione come Ronaldo mi stimolerà molto e sono anche molto emozionato e curioso di vedere come si allena e come si può arrivare a certi livelli perché per rimanere a certi livelli così tanti anni vuol dire che c'è dietro una mentalità e un lavoro incredibile quindi sono molto curioso anche di quello.